Ciao a tutti, oggi vi mostro come fare questa pettinatura, come vedete è un side cut però senza la rasatura ma con una bellissima treccia laterale e io mi sono ispirata alla foto che avete visto come anteprima di Jennifer Aniston sapete che lei non cambia molto pettinatura però ogni tanto ha questi explo molto carini e molto simpatici da replicare ecco è super facile e veloce, basta solo un po' di attenzione e bisogna insomma essere capaci di fare la treccia vi servirà solamente un pettine e un elastico per capelli e ovviamente dei capelli lunghi e al limite delle forcine vi consiglio di farla su i capelli non appena lavati perché riuscite a lavorare meglio però se voi li avete appena lavati insomma magari mettete un po' di gel o di schiuma in modo da sporcarli un pochino vi lascio il tutorial, vi lascio il tutorial, spero vi piaccia e alla prossima, ciao! ciao! come vedete ho creato una linea laterale e ho preso una sezione di capelli quindi oltre a farla qui su sono andata anche qui giù tenendo l'altra parte quella con più capelli tutta di lato in modo da poter lavorare liberamente questi li tiro un pochino indietro in questo modo in questo modo e inizio da qui prendendo la parte centrale e inizio con una treccia normale dopo il primo intreccio inizio a prendere man mano i capelli dall'alto prima da una parte e poi dall'altra in modo da inglobarli con tutta la treccia e inizio con tutta la treccia in questo modo quando arrivate alla fine della testa continuate con una treccia normale senza prendere altri capelli tirando bene in modo che il resto non si sciolga e quando arrivate a metà lunghezza fissate tutto con un elastico possibilmente dello stesso colore dei vostri capelli il resto li pettinate bene bene in modo che la parte dietro di sia appunto rivolta verso dietro in questo modo e la parte di lato tutta qui di lato alzando un pochino il ciuffo in questo modo e questo è il look come vedete è facilissimo cercate di fare la treccia più regolare possibile e se vi riesce cercate di partire più avanti insomma io sono partita più avanti possibile mi raccomando stringete bene bene così non si formano parti molle che insomma stonerebbero con la pettinatura ecco vi consiglio inoltre di usare un elastico che sia proprio simile ai vostri capelli se non trasparente se questa parte di capelli vi da fastidio che sono rimasti fuori dalla scriminatura iniziale potete portarla di lato e magari fissarla con un paio di forcine in modo che non si veda e poi coprirla con il resto di capelli sciolti ecco questo è il look io spero vi piaccia spero di avervi dato un'idea carina vi salutiamo e alla prossima ciao ciao